Oggi siamo venuti al mare perché vi presentiamo un ultimo arrivo di casa Miro Non è proprio un ultimo arrivo, in realtà è una sorta di rivisitazione di un prodotto già esistente nel catalogo che Miro in seguito alle tante richieste ha deciso di rifare e migliorare in piccola parte Parliamo del guadino Sea Rock, un guadino che è perfetto per la pesca in acque salate dai moli, dalle scogliere, nelle zone dei muraglioni portuali Perché? Perché questo guadino, come potete vedere, è un guadino che prima si chiamava Tere Rock adesso si chiama Tere Sea Rock Praticamente è un guadino che ha un ingombro minimo, questo è il suo ingombro, di solo i 66 cm ma che una volta aperto è in 9 sezioni e arriva fino a ben 5 metri di lunghezza questo cosa vuol dire? Vuol dire che se voi state pescando su un posto come questo dove mi trovo io che siamo comunque abbastanza alti sull'acqua che non avete magari possibilità di avvicinarvi troppo perché siete un po' impiccati nei movimenti grazie a questo guadino riuscite ad arrivare facilmente all'acqua stesso discorso per i muraglioni portuali o i moli e tutte le cose simili è un guadino ovviamente molto resistente perfetto per chi pratica lo spinning e l'aging ma anche chi va a pescare in bolognese in più la cosa molto interessante di questo guadino che mi l'ho aggiunto è la presenza di questa comoda tracolla perché voi questa tracolla la potete mettere dietro e potete tranquillamente camminare dove volete senza avere le mani occupate avete una mano magari alla canna e basta perché la vostra borsina magari un marsupio ce l'avrete addosso in questo modo quindi con questo guadino sarete molto più comodi nei movimenti molto interessante anche la presenza di due impugnature in eva che in posti soprattutto di mare quando magari avete le mani che sono spesso umide perché magari ci sono delle mareggiate quindi c'è molta umidità in giro avete molta più presa e riuscirete a guadinare meglio i pesci che andrete a catturare o i cefalopodi se pescate aging è importantissima la boccola che è universale per tutti i guadini e i test di guadino della gamma Miro un prodotto che personalmente io ho utilizzato nella versione precedente che mi sono trovato molto bene mi ha salvato in tantissime occasioni con catture di seppie, calamari e polpi e che adesso mi aiuterà ancora di più perché effettivamente con la presenza della tracolla che potrete ovviamente anche regolare sarà molto più comodo per gli spostamenti